Sappiamo che i tag non sono novità assoluta del momento, ma sappiamo che sono comunque uno degli argomenti più interessanti del momento, perché? Perché sul mercato è arrivato Apple AirTag e di conseguenza tutta la concorrenza si è un po' svegliata. C'erano già tanti modelli, ma uno dei più interessanti che farà concorrenza in questi mesi ad Apple AirTag è sicuramente lo SmartTag Plus di Samsung. Noi lo abbiamo trovato a qualche giorno barra settimana dal suo arrivo nel nostro paese e oggi vi raccontiamo che cosa ne pensiamo. Ma attenzione perché il mese di giugno è il mese del Prime Day, non perdetevi tutte le offerte iscrivendovi al nostro canale esclusivo e c'è anche un secondo canale che è ancora più esclusivo, ma scopriete tutto nei commenti. Ma adesso iniziamo! Questa è la confezione di Samsung SmartTag Plus, la versione che arriva anche in Italia, con sul lato sinistro chiare indicazioni di quali sono i modi in cui potreste sfruttare questo SmartTag in modo intelligente, ovvero una valigia, le vostre chiavi, ma anche il vostro animale domestico, al contrario appunto di quello che ha suggerito Apple ai suoi acquirenti. Questo è il pacchetto da 1, dovrebbe arrivare anche il pacchetto da 2, non ci dovrebbero essere pacchetti da 3 o da 4 come invece ci sono per la variante non plus. SmartTag Plus si presenta in questa forma, con questa plastica opaca, nera, che sembra essere tutto sommato abbastanza resistente, anche se sono convinto che se userete molto il forellino qui è probabile che questa parte interna sia la prima che andrà a consumarsi più facilmente. È un po' più grande di AirTag, lo vedete, quindi sicuramente uno dei punti forti di AirTag è la sua compattezza come anche la sua sottigliezza, vedete chiaramente qui che questo SmartTag è un po' più spesso, ma uno dei grandi vantaggi è proprio la presenza di questo fore, questo fa sì che per tantissimi utilizzi non serva utilizzare un portachiavi, non serva utilizzare un altro tipo di bracciale, perché? Perché vi basterà attaccare un laccetto o un moschettone direttamente all'interno di questo foro. All'interno c'è una batteria removibile, si apre con un po' di fatica, facendo forza e tirando tutto attorno alla scocca in plastica per poi andare a mostrare la sua batteria a bottone. Batteria sostituibile, eccola qua, ve la faccio vedere, quindi sono riuscito a smontarlo in diretta. Batteria sostituibile, quindi non c'è bisogno di caricarlo e non c'è bisogno di buttarlo via quando ha finito la sua funzionalità. Avete sentito un breve suono? Perché? Perché sulla parte superiore di questo dispositivo è presente un, lo vedete leggermente contro luce, si vede, devo dire, abbastanza poco, un tasto, un tasto fisico. La sua pressione vi permetterà di accoppiarlo al vostro smartphone e qui arriva uno, diciamo, se vogliamo, dei limiti di questo dispositivo, almeno per quanto riguarda gli utenti Android che spesso si aspettano una compatibilità molto ampia di questi prodotti. Beh, non è così, in questo caso si tratta di un prodotto compatibile solo con smartphone Galaxy dalla versione Android 8 successiva oppure una selezione molto precisa di smartphone Galaxy per essere precisi S21+, S21 Ultra, Note 20 Ultra oppure Galaxy Z Fold 2 che sono gli unici ad avere l'ultra wide band e quindi sono gli unici a poter sfruttare la funzione esclusiva che questa variante Plus di Smart Tag offre rispetto allo Smart Tag classico che invece è già da qualche mese in commercio nel nostro paese. Quindi configurazione molto semplice e poi lo attaccate dove volete e vi servirà per non perdere il vostro prodotto. Attraverso l'applicazione che è SmartThings, per essere precisi SmartThings Find, che è la parte dell'applicazione di SmartThings che permette di ritrovare prodotti come per esempio dispositivi Galaxy Wearable di vario genere o smartphone appunto Samsung Galaxy. Una volta configurato là dentro vedrete l'ultima posizione riconosciuta e dalla lista di dispositivi a cui potete accedere anche dalla tenda delle notifiche potete sapere se siete ancora connessi al vostro Smart Tag Plus, ovvero se è a portata di Bluetooth. La connessione appunto avviene tramite Bluetooth o a distanza molto ravvicinata tramite Ultra Wideband che però è presente solo in quei quattro smartphone che vi stavo raccontando in precedenza. Grazie al Bluetooth potete farvi navigare dall'applicazione appunto SmartThings Find con una sorta di potenziometro, mettiamola così, che vi indica quanta potenza c'è del segnale e di conseguenza quindi quanto è distante il prodotto. Devo dire non è proprio super intuitivo, ancora meno intuitivo è la funzionalità di navigazione AR, almeno negli spazi chiusi. All'aperto ha già molto più senso. Negli spazi chiusi si attiva a distanza molto ravvicinata e in sostanza smette di funzionare anche a distanza molto ravvicinata, dopodiché l'applicazione quello che fa è suggerirvi di attivare la funzione sonora perché qua dentro c'è un piccolo speaker che vi permette di attivare appunto una funzione sonora e devo dire che la funzione sonora è veramente molto potente. Come ho detto anche nella recensione di AirTag, la funzione in realtà aumentata è molto scenica ma se avete perso qualcosa all'interno è indubbio che la funzione sonora sia l'unica cosa che veramente vi permetterà di trovarlo molto rapidamente. All'esterno invece l'Ultra Wideband assume un po' di significato, magari in un'area rumorosa può guidarvi nella direzione del vostro mazzo di chiavi perso, ma perfetto non è. Tra le altre cose nel mio test quello che è successo è che a un certo punto la funzionalità di Ultra Wideband ha smesso di funzionare in Toto e potevo usare soltanto quella del Bluetooth. Ho dovuto aprirlo, levare la batteria e rimetterla per far sì che la funzione di Ultra Wideband funzionasse. Quindi secondo me c'è ancora qualcosa che può essere raffinato all'interno di questo prodotto. Cosa interessante, alla prima installazione vi viene chiesto di fare un aggiornamento firmware quindi niente vieta a questo prodotto di essere aggiornato ancora nuovamente nei prossimi mesi e quindi di migliorare le sue funzionalità in tal senso. Ma se perdete questo Smart Tag Plus o meglio quello che avete attaccato, magari le chiavi, attaccate a questo Smart Tag Plus fuori, cosa succede? Beh, succede che proprio come AirTag anche qui si sfrutta la fitta rete di dispositivi Galaxy Find Network per far sì che chiunque passi vicino a questo prodotto, grazie alla sua connessione Bluetooth, chiunque con un dispositivo Galaxy, possa segnalare in modo assolutamente anonimo e criptato la posizione di questo prodotto. Onestamente non avevo grandissime speranze, ma in realtà quello che ho scoperto è che lasciandolo nascosto per esempio in macchina parcheggiata sulla strada, strada abbastanza trafficata di persone, dopo circa cinque ore è passato accanto qualcuno che ha segnalato la posizione, ovviamente senza che lui lo sapesse, di questo Smart Tag, dopo che ovviamente l'avevo indicato tramite l'applicazione Smart Things Find come perso. Mi è arrivata una notifica sullo smartphone e ho potuto vedere dov'era questa posizione. Una sola nota, nel momento in cui qualcuno trova diciamo involontariamente il vostro Smart Tag, la modalità perso si disattiva e quindi qualsiasi persona che magari dovesse passare di lì successivamente, se voi non avete visto in tempo la notifica, non andrà a migliorare con magari maggiore precisione la posizione di questo prodotto. Se perdete questo prodotto, una cosa che indubbiamente gli manca è l'NFC, quindi chi dovesse ritrovare questo dispositivo non potrà fare altro che aspettare che siate voi a scoprire la posizione. Perché? Perché poggiandolo sul retro di uno smartphone con NFC non viene aperta nessuna pagina, non c'è nessuna indicazione del proprietario, quindi chi trova questo Smart Tag non può aiutare il suo proprietario a far sì che venga ritrovato, può soltanto magari tenerlo vicino a un dispositivo Galaxy e sperare appunto che tutto il sistema funzioni. Ma c'è qualcosa che rende questo Smart Tag più molto molto interessante ed è il tasto fisico che vi raccontavo prima. Perché? Perché con la doppia pressione di questo tasto quello che succede è che sarà il vostro dispositivo ad andare a ritrovare il vostro smartphone, ovvero potete fare anche l'inverso. Se avete perso lo smartphone in casa vi basterà andare al vostro mazzo di chiavi dove avete attaccato questo prodotto, premere due volte e trovare il vostro smartphone. Ma non solo, visto che il tasto fisico può essere programmato anche per la singola pressione, e in questo caso io l'ho programmato per spegnere la luce alle mie spalle tramite SmartThings, o la doppia pressione. Le funzioni più interessanti sono sicuramente quelle di domotica, ovviamente i prodotti devono essere compatibili SmartThings, nel mio caso è una lampadina e-light, oppure potete andare a inviare un messaggio a qualcuno, per esempio se volete in modo pratico far sapere a qualcuno che siete arrivati al lavoro o che siete tornati a casa con un comodo tasto, oppure ancora attivare le routine che si possono appunto programmare all'interno di SmartThings, come quella per esempio di quando si entra in casa o di quando si esce di casa. E siamo quindi vicini alle conclusioni, una cosa assolutamente da sapere è l'autonomia. Ovviamente con questa batteria l'azienda parla di circa una decina di mesi di autonomia, non posso ancora darvi un giudizio in tal senso perché ovviamente non sono ancora passati dieci mesi dal lancio sul mercato. Nel complesso questo SmartThing più mi è piaciuto, ma comunque con delle riserve, nel senso che visto che il nuovo standard ovviamente su cui tutto viene confrontato è questo AirThing, devo dire che dal punto di vista del tracciamento degli oggetti smarriti, sicuramente il prodotto di Apple funziona meglio ed è anche pensato meglio. In questo caso non c'è nessuna funzione particolare per esempio per evitare che possa essere usato per lo stalking o comunque non c'è per esempio la possibilità di scoprire chi è il proprietario tramite l'NFC. E almeno per il momento la rete di smartphone Galaxy con SmartThings network attivo è sicuramente inferiore a quella di chi invece ha un AirTag. Ma questo ovviamente soltanto il futuro potrà dire che magari non ci sarà un recupero da parte di Samsung. Ci sono delle cose però che mi sono molto piaciute di questo prodotto. Il tasto fisico, indubbiamente, e forse ancora di più il fatto che ci sia un forellino. Perché, diciamoci la verità, questo AirTag senza possibilità semplice, comoda di essere agganciato a un prodotto che volete tracciare, almeno senza poi comprare accessori di terze parti o anche di Apple, questo è ovvio, è sicuramente un punto a suo sfavore. Mentre qui invece avete già il forellino che può sembrare una stupidaggine ma secondo me non lo è affatto. Una cosa da considerare è ovviamente il prezzo. Non c'è ancora un prezzo ufficiale per l'Italia, nonostante questa sia proprio la scatola della variante che verrà venduta in Italia, ma se facciamo il rapporto, il rapporto fra sterline ed euro, il suo prezzo dovrebbe essere di circa 45 euro. E diciamo la verità, per voler essere un concorrente di Apple AirTag, sono tanti soldi. Secondo me sono un po' troppi soldi. Anche perché, come vi ho raccontato, con l'ultra wideband, le funzionalità, oltre ad essere compatibili solo con un ristretto numero di smartphone, non sono così interessanti. La navigazione con la realtà aumentata non offre chissà quale esperienza incredibile che non possiate risolvere semplicemente facendolo suonare. E in quel caso, quindi, mi sento di consigliare per praticamente tutti quelli che hanno uno smartphone Galaxy e vogliono un tag comodo e semplice da utilizzare, di comprare la versione non plus che costa e costerà quantomeno di sicuro 10 euro in meno. Ma attenzione, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella delle notifiche, perché nelle prossime settimane arriverà un confronto sul campo, non solo fra questi due, ma anche fra altri tag che sono già in commercio. Quindi, continuate a seguirci. Grazie per averci seguito fino a qui, a un prossimo video.